le amiche e gli amici di adegabri del baule della nonna carissimi e carissime allora andiamo a fare l'ovale perfetto questo è un corso di uncinetto va bene perché noi sappiamo fare il rotondo perfetto e ma non ho mai fatto l'ovale perfetto e siccome mi è stato richiesto da voi amiche allora andiamo a fare l'ovale perché l'ovale poi ci può ci può servire per una borsa per un per fare un tappeto con tutti gli avanzi che abbiamo di di cotone o di lane lo foderiamo sempre con un una stoffa antiscivolo chi non ha la macchina lo può cucire a mano e vengono fuori delle cose bellissime ragazzi allora io adesso ho preso una lana di avanzo e un uncinetto adeguato questo è il 5 e vado a mettere un 16 catenelle va giusto per 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 allora per quanto riguarda la lunghezza delle catenelle noi possiamo mettere 20 30 quello che ci pare poi dopo è il girare che è sempre sempre uguale ok possiamo farlo in due modi e cioè fare il laterale e il laterale dall'altra parte cioè iniziare con il lavorando di lato poi crescere qui lavorare di lato e finire con la crescita qui o sennò possiamo farlo possiamo fare metà crescita per esempio adesso qui vado ad aumentare quattro maglie alte posso farne due e poi quando chiudere con le altre due non so come pare a voi io adesso inizio aumentando sempre sullo stesso sulla stessa catenella con cui ho finito ok e adesso vado a fare una e due questo è un uncinetto 5 adeguata a questo filato e poi giro e comincio a fare le mie malli alte così con questi ovali ci potete fare il fondo delle borse vi ricordo di iscrivervi al mio canale numerosi condividere mettere la pubblicità un piccolo commento mi raccomando ecco qui l'ultima catenella noi andiamo ad aumentare vedete su quest'ultima le nostre maglie alte quattro perciò una due 3 date fatemi abbassare un pochetto ecco e 4 dopodiché riprendiamo la metà della catenella e continuiamo a fare i nostri punti alti e logico che noi questo lavoro lo possiamo fare anche con il punto basso siamo arrivate alla punta e allora noi abbiamo fatto già due maglie alte andiamo a fare le rimanenti due maglie alte 1 2 3 e 2 e chiudiamo ecco qui partendo sempre dal centro del della rotondità del nostro del nostro del nostro lavoro noi andiamo a mettere 1 2 3 e raddoppiamo praticamente per non ne abbiamo 4 adesso ne dobbiamo fare 8 perciò andiamo a fare due maglie alte su ognuna delle maglie alte sottostanti ok le altre due le andremo a fare le altre quattro cioè scusate le andremo a fare quando arriviamo qui perciò continuiamo che mi raccontate di bello saluto tutte le bimbe che mi seguono ciao bimbe saluto tutte le signore che mi seguono ciao belle signore e tutti i ragazzi e i signori che mi seguono ciao carissimi aspettate però fate male allora 1 2 3 4 1 2 3 4 perciò da qui adesso noi iniziamo a raddoppiare e 1 e 2 3 4 4 5 5 6 7 e 8 e adesso continuiamo con le maglie alte di lato 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 12 10 11 11 12 13 15 15 senso che se voi mettete 30 catenelle sempre 4 maglie iniziate con 4 potete anche aumentare a 6 e il colmo qui la rotondità viene molto più pronunciata però se noi man mano andiamo a crescere poi dopo questi aumenti si fanno molto importanti con due maglie in più perché io l'ho fatta adesso poi dopo ve lo faccio vedere allora qui noi abbiamo fatto 4 perciò 12 e su quest'altro 3 e 4 e chiudiamo adesso qui abbiamo raddoppiato no il secondo giro con quest'altro invece noi andiamo a raddoppiare una volta 123 e sullo stesso punto alto raddoppiamo su quest'altra invece noi andremo a fare solo un punto alto raddoppiamo e un punto alto uno sì o no come noi facciamo con il cerchio va bene perciò quando ne dovremmo fare 2 4 2 4 6 8 giusto però non è che noi ogni giro stiamo a contà guardiamo gli aumenti che abbiamo fatto sotto e ci fermiamo sull'aumento perché 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 se no ci dobbiamo sta cercare la 8 e 8 16 adesso dovremmo farne no perché da 4 abbiamo raddoppiato a 8 e poi un 2 si uno no giusto ho fatto bel conto se ho fatto male poi dopo tanto me lo dite è a posto dai andiamo c'è questo è un lavoretto che noi possiamo fare benissimo davanti alla televisione senza sta contà è guardando il colmo della rotondità dell'ovale forse adesso andiamo a raddoppiare a raddoppiare a fare un aumento e uno no ecco qui guardiamo no dov'è che abbiamo iniziato eccolo vedete c'è il doppio e allora da qui noi cominciamo a fare il nostro raddoppio e uno no un raddoppio e uno no un raddoppio e poi continuiamo con ah no scusate qua vedete il raddoppio sotto perciò un raddoppio non ho e un raddoppio infatti non girava bene e poi continuiamo quando fate la curva state attenti agli aumenti sotto vedete come è fatto bene come viene caruccio eccolo eccolo guardate quanto è bello è bellissimo se possono fare pure le bimbe voglio salutare la nipotina di angela santillo sta bimbe mancina e ha fatto vedere la nonna faceva vedere come faceva ecco qui guardate lo vedete abbiamo qui l'aumento e allora iniziamo ad aumentare c'è rumba che bussa la porta me l'ha regalato mio marito due anni fa tre anni fa non mi ricordo e raga funziona veramente solo che si va nascondendo sotto i mobili si blocca e io ogni tanto devo andare alla cerca questo rumba che ti è che ti chiama però quando ti chiamo magari c'hai da fare altre cose e non lo vai a salvare a ripescare eccolo qui adesso per continuare noi facciamo sempre come facciamo con i nostri rotondi e cioè iniziamo adesso con un raddoppio e due no 1 e 12 un raddoppio e due no un raddoppio ecco vedete questo è l'ultimo 1 e 2 e poi continuiamo con i punti alti dovete dovete essere pratiche pratiche ma dicevo questa bambina con la sinistra faceva sta catenella e certo che è difficile insegnare a una bimba che che a mancina è per una che che io non ci riuscirei però ci sono volevo dire dei corsi per per chi la che per chi è mancina cercate su di youtube ci sono delle signore che fanno l'uncinetto e il tricò che lavorano anche con la mano sinistra e io non sono capace ragazzi guardate guardate allora iniziamo vedete il dove lo raddoppio doppio due no doppio doppio due no e continuiamo adesso io continuo da sola perché tanto voi avete capito ecco qui l'ovale perfetto pensate a un quando può essere sì bene un tappetino una cinquantina di una sessantina di centimetri vi conviene sempre a fare una catenella molto più lunga così arrivate prima e girate tutto intorno sempre crescendo ok chiudiamo e poi chi vuole continuare distanza ogni tre ogni cosa no eccolo qui guardate vedete come ben bilanciato allora ragazzi allora ragazzi io l'ho fatto con il cordoncino aiuto che dico mo ci faccio una borsetta come già facciamo ma sinceramente mi mi si rompono le mani ci vuole una forze ho imparato pure a farlo di taglio ho imparato pure a farlo di taglio perché con tenendo l'uncinetto di taglio si fa più forza si ha più forza e avevo iniziato a fare una lavorazione poi ho guastato quei due tre giri perché vedete tenendolo così uno può allora io questi qui ho fatto uno due tre quattro cinque giri e qui io ho fatto uno due tre quattro qui ho fatto un giro in più e cioè un raddoppio e tre no un raddoppio e tre no ecco qui la grandezza ma vedete questo è il cordoncino e questo vabbè la lana è molto più spessa di sto cordoncino l'ho lavorato vedete qui l'ho guastato poi non lo so la marca di sto cordoncino me l'ha regalata un'amica la grandezza non lo so qui non c'è scritto però io l'ho lavorata con un quattro e mezzo e ho fatto questo fondo vedete questo fondo però vi dirò che ci vuole una bella forza per lavorarlo e ho imparato pure a tenere l'uncinetto come un coltello e così si fa più ci si mette più forza però io non ci sono abituata insomma raga e allora vedete tenendo l'uncinetto così e ci volevo fare una borsetta poi la facciamo insieme a voi vedete ho imparato pure a tenere lo tengo proprio come una zappa eh però ho notato che così sforziamo di più a parte che io c'ho il problema con sto ditone non con questo e ho notato che tenendolo così io riesco a stringerlo anche di più però questo lo guasto perché poi andremo a fare vediamo una lavorazione o una lavorazione magari mettendo l'uncinetto lo prendiamo no per così in modo che il fondo no vedete come vado sempre chi lavora sempre le borse infatti tiene l'uncinetto con la fettuccia e con tiene l'uncinetto in questo modo ragazze lo tiene in questo modo no che poi ho sbagliato perché noi dobbiamo girare dall'altro lato e questo è il nostro dritto perciò ok poi vedrò un modellino e ci faremo un prima di riposare il polso ragà perché proprio sforzato con sta cordina con sta corda allora il fatto è che con la corda è abbastanza sottile noi dobbiamo lavorare col quattro quattro e mezzo mentre la fettuccia è sforzi però lavoriamo con un otto e facciamo molto 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 prima e anche se sforziamo la mano però arriviamo prima con tre ore si fa una borsa ma nemmeno perché è talmente spesso l'ho filato invece questo è rigido ed è io questa è la prima volta che lo lavoravo e ho trovato questa difficoltà ma perché ho una certa età le mie mani ormai i miei tendini insomma e così vabbè vi voglio far vedere le mie bomboniere eccole qui carissime andatevele a vedere perché anche se non vi serve per quest'anno qui ognuno ci mettete il confetto no questi della matrix che sono ripieni di mandorla e di tutto quel ben di dio buonissimi qui ci mettete qualcosa un tulletto per bloccare il centro e poi guardate questo come segnaposso stupendo questo è un fiore che si fa velocissimamente perché sono uno due tre quattro giri idem questo qui che potete fare con le fedi in argento perciò tirate fuori sti campioncini non l'avevo fatta le fedi ma vabbè stanno lì e le fedi le potete anche mettere per decorare per esempio la borsina questo ve lo ricordate il cerchio è un po' troppo grande eh io avevo solo questi la borsina guardate che carina con un cerchietto più piccolo di 5 di diametro è perfetto la caramella con il granny semplice 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 e il cuoricino poi avevo tirato fuori questo ma non ve l'ho fatto vedere ma è troppo lavorato ragazze non si finiva mai praticamente ci ho messo quattro ore per fare sta cosa perché fa tutto vedete tutto sto riccio così tutti i punti alti tutti i punti alti eh non non può essere è poco pratico e poi ci vuole quasi mezzo gomitolo di filo perciò lo via perché noi facciamo le cose veloci pratiche carine e che non ci costano tanto e allora carissime spero che l'ovale vi sia piaciuto adesso quando mi riposo facciamo una borsetta con questo piccolo ovalino una pochette e alla prossima un abbraccio che ci sono e quindi la domanda